Covid le ultime 24 ore vedono scendere i contagi nell'intera provincia nissena, si raggiungono i 4.448 positivi con i 365 nuovi contagi, 3 dei quali fuori provincia, mentre i guariti sono 457, rincuore il dato della terapia intensiva vuota, mentre l'adegenza ordinaria vede 41 positivi di cui 4 nelle ultime 24 ore, un decesso a Gela, positivo al SARS-CoV-2. Dal 1 aprile l'Italia esce dallo stato d'emergenza e le regole che riguardano i contagi e il periodo di isolamento domiciliare in caso di positività al SARS-CoV-2 restano invariate. I positivi resteranno in isolamento per 7 giorni se vaccinati con terza dose booster o se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 120 giorni. La stessa tempistica vale per i guariti da meno di 120 giorni.